grazie grazie paolo grazie al presidente dell'accademia dei 40 per questo invito e vi parlerò appunto oggi di come si fa una fisica di precisione nella misura dei raggi cosmici dallo spazio parlarò dell'esperimento ams 2 che da più di due a da dieci anni opera sulla stazione spaziale questo quadrettino giallo che voi vedete è l'immagine di ams fotografata da uno degli shuttle che si sono alternati negli anni sulla main truss sul sul sull'asse principale di questa meravigliosa struttura che la stazione spaziale internazionale i raggi cosmici sono stati scoperti circa cento anni fa e con tecniche molto semplici a per allora no erano complesse perché si trattava di balloni di alta quota che andavano a qualche chilometro e con strumenti che allora erano i migliori che esistevano degli elettrometri che misuravano la scarica in vuoto di opportune fili di d'oro ma questa scoperta ha aperto la strada a tantissime altre questioni in particolare è stata alla base della fisica delle particelle oggi come vedete da questa immagine gli strumenti che usiamo in orbita per misurare questi raggi cosmici sono molto più sofisticati in un contesto tecnologico avanzatissimo e con investimenti anche strumentazioni molto grandi qui vedete gli astronauti che stanno trafficando intorno all'esperimento l'esperimento ams quello inclinato sulla destra e adesso ne parliamo ma così venite anche rendete conto di quanto uno strumento di grandi dimensioni pesa 8 tonnellate e mezzo ed è ben più grande di un essere umano se riempie un paio di stanze di una casa in dieci anni questo strumento ha raccolto 170 miliardi di particelle di alta energia di particelle elementari di alta energia e ne parliamo in dettaglio su questo tipo di dati noi facciamo la fisica di precisione dei raggi cosmici che cosa vuol dire fisica di precisione dei raggi cosmici dobbiamo innanzitutto dire che sono tutte le particelle cariche che stabili che vivono almeno qualche milione di anni perché devono fare percorsi molto grandi per raggiungerci dal punto in cui vengono prodotte quindi tipicamente o stabili come il protone elettrone o alcuni isotopi come litio e berillio che possono avere tempi di vita media di decine di milioni di anni altrimenti non ha non ha senso cercarle in uno spazio che è talmente immenso che fa sì che le particelle ci viaggino addirittura per miliardi di anni quindi se non sono stabili non se ne fa nulla e precisione cosa vuol dire anche queste particelle una volta venivano misurate con i grafici di sinistra a sinistra vediamo il flusso di elettroni positroni misurati con gli esperimenti diciamo tra virgolette tradizionali di bassa statistica su pallone o su piccoli satelliti vedete come positroni in rosso e elettroni in blu ma sono con grande barri di errore e sono un esperimento con l'altro si parlano relativamente poco la stessa osservabile questo il flusso degli elettroni o dei positroni moltiplicato per un fattore energia al cubo e misurato diversi esperimenti non ritorna uguale ma anche al di là delle barri di errore quindi abbiamo anche effetti sistematici adesso vediamo con ams invece di misurare centinaia o forse qualche volta decine di queste particelle misurandone milioni noi vediamo degli spettri enormemente più precisi in cui si possono fare dei confronti tra elettroni positroni nel caso specifico molto significativi vedendo anche comportamenti molto diversi lo stesso vale per i nuclei degli elementi elio carbonio ossigeno e tutti gli altri naturalmente che una volta viene misurati con poche unità oggi con la precisione di ams si possono fare degli studi in cui per la prima volta si fanno le misure al per cento in precisione della fisica di raggi cosmici mai non era stato mai possibile in passato perché ricordo che sulla terra i raggi cosmici non arrivano in quanto sono fermati dall'atmosfera producono degli sciami arrivano a terra solamente i muoni ma sono dei secondari rispetto alla particella iniziale che era appunto un protone un elettrone un positrone un nucleo di un di un isotopo stabile e via dicendo quindi l'obiettivo di questo esperimento di fare precisione misura di alta precisione in astrofisica e usando le particelle più rare le particelle di antimateria e perché questo cerchiamo di capirlo un attimo l'antimateria e la materia sono simmetrica tutti gli effetti per quanto noi si sappia una delle cose fondamentali nella fisica delle particelle e nei raggi cosmici c'è poca antimateria andiamo da cinque parti per mille di positroni rispetto ai protoni a 10 una parte per 10 mila di antiprotoni rispetto ai protoni a una parte dice la per 10 milioni per l'antideuterio rispetto ai protoni e poi si stima che di elio 3 antielio 3 antielio 4 ce ne debba essere meno di una parte per miliardo per per motivi sono collegati al modo in cui queste particelle antiparticelle sarebbero prodotte negli urti fra particelle di altissima energia e particelle del gas interplanetario interstellare se abbiamo queste indicazioni su quante ce ne aspettiamo e sono molto poche rispetto al totale se ne vediamo molti di più dove molti di più può essere un fattore 2 un fattore 3 un fattore 4 sempre molto poche beh avremmo delle indicazioni di qualche cosa di nuovo nella fisica e quindi questo è l'obiettivo dell'esperimento misurare così bene il fondo di particelle abbondanti e di antiparticelle rare per poter capire se le antiparticelle rare ce ne sono più del previsto e soprattutto quelle più sono rare più l'effetto di vederne qualcuna in più del previsto ci può aprire nuovi orizzonti nella fisica ne parliamo fra poco ricordiamoci che stiamo muovendoci in un universo che sta venendo studiato da terra nello spazio con strumenti potentissimi abbiamo una un'idea complessiva ormai molto consolidata di un inizio violentissimo lo chiamiamo big bang una grande espansione più che un'esplosione una fase di in cui la fisica nucleare gioca dei ruoli importantissimi tutte le interazioni all'inizio quelle elementari erano ugualmente intense poi si sono separate una dall'altra poi la gravità ha fatto la sua storia e le altre interazioni hanno aiutato la formazione dei nuclei di quelli che saranno gli atomi delle particelle adroniche poi gli si sono combinati gli elettroni con con i nuclei di 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 protoni per formare i primi atomi di idrogeno oppure di elio e piano piano la gravità ha fatto il suo lavoro di produrre agglomerati stelle e poi gruppi di stelle galassie gruppi di galassie e fino ai giorni nostri 14 miliardi di anni quasi 15 miliardi di anni dopo l'iniziale espansione in cui abbiamo un universo tra virgolette adulto per non dire vecchio ma possiamo guardare al lontano per vedere fasi giovani dell'universo che ci arrivano come informazione di tipo luminoso da epoche diverse e questo è un po una sintesi della nostra comprensione dell'universo l'ho fatta molto molto sintetica naturalmente alcune cose importanti le abbiamo capite e ci stiamo spingendo sempre più in là per esempio il James Webb telescope sta cercando di vedere proprio le primissime stelle galassie che sono formate dopo la famosa ricombinazione e questo è è un settore di studi di grandissima importanza ma sappiamo anche e qui andiamo sull'infinitamente piccolo che le particelle elementari sono i mattoni fondamentali che formano la totalità dell'universo quindi questa cosa macroscopica alla fin dei conti è formata da interazioni che sono basate su un numero limitato di particelle elementari e dopo 50 anni di studi che sono stati iniziati dai raggi cosmici di S ma sono continuati con gli acceleratori del CERN di Chicago di Stanford e via dicendo abbiamo una comprensione interessante di quello che si chiama il modello standard delle interazioni elementari abbiamo famiglie di particelle elementari alcune siamo chiamati leptoni come l'elettrone e il suo neutrino elettronico il muone che è un elettrone più pesante e il suo neutrino muonico il tau e il suo neutrino tauonico e poi ci sono delle analoga combinazione a famiglie di quelli che si chiamano quark particelle intrappolate dentro gli adroni o dentro i mesoni che sono stati chiamati mando a mando che si sono scoperti up down charm strange top and bottom ce ne sono sei proprio come ce ne sono sei di leptoni sono tutti carichi elettricamente parlando mentre i leptoni sono carichi per metà e gli altri sono neutri e hanno la proprietà di avere di subire in modo intensissimo la forza forte che li lega in modo indissolubile all'interno delle particelle elementari adroniche come i barioni protone neutrone o come gli adroni che sono appunto i pai e altre particelle di tipo di spin che sono dei bosoni e questo insieme di famiglie di quark di famiglie di leptoni sono quelli responsabili per tutta la massa di cui possiamo prendere nota attorno a noi la massa è generata da un processo elementare chiamato meccanismo di Higgs ed è stata dieci anni fa circa scoperta la particella il bosone famoso bosone di Higgs che crea la massa di queste particelle quindi tutto ciò che poi alla fine è osservabile e che studiamo e tutto questo funziona perché ci sono delle interazioni fra queste particelle elementari ci sono le interazioni elettromagnetiche mediate dal fotone ma quelle deboli che fanno decadere i nuclei con le reazioni di tipo debole o trasformare un nucleo, un quark in un altro sono mediate dallo Z0, il bosone W più, il W meno scoperto le tre particelle da Carlo Rubbia al CERN e infine i gluoni che sono quelli che tengono assieme i quark ce ne sono nove tipi di gluoni con dei colori diversi se non posso entrare nel dettaglio ma questo insieme di particelle dotate di massa tramite il meccanismo di Higgs e organizzate in famiglie a due a due e interazioni interazioni le tre interazioni fondamentali più la gravità tutto questo è quello che ci serve per affrontare e spiegare l'universo che c'è intorno a noi quindi macro e micro che si mescolano naturalmente non abbiamo capito tutto anzi abbiamo solo capito una piccola parte di ciò che è attorno a noi perché particelle dello standard model creano i nuclei atomici i nucleoni che compongono i nuclei atomici creano gli atomi ci sono i neutrini ci sono i fotoni che possono chiaramente essere prodotti e camminano molto molto a lungo e chiaramente le interazioni fondamentali interagiscono con le altre particelle di cui vi ho parlato tutto questo però nel bilancio complessivo di massa energia dell'universo pesa solo il 4 5 per cento il rimanente 95 per cento e lo abbiamo dopo molti studi e ricerche classificato in una componente oscura dell'universo separata in due parti una parte fatta da particelle materia fredda ma totalmente invisibile perché non interagisce elettromagneticamente non interagisce con un'interazione debole o forte ma sostanzialmente interagisce solo gravitazionalmente e quindi diciamo ha una interazione modestissime a livello delle particelle elementari con le altre particelle 23 per cento quindi sei volte tanto la materia che conosciamo dello standard model quindi molto di più domina e poi una componente di energia oscura che pesa ben il 73 per cento quindi un altro fattore 3 rispetto al fattore 6 che 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 abbiamo capito lo standard model ed essa sembra essere qualcosa legata alle proprietà del vuoto del vuoto quindi una un'altra tematica importantissima in fisica e il totale fa 100 voi potete chiedere ma come facciamo ad avere l'indicazione che capiamo solo una frazione così piccola della massa dell'energia attorno a noi e il 95 per cento 96 per cento lo chiamiamo scuro sostanzialmente perché non capiamo di che si tratta la risposta è questa perché lo studio dell'infinitamente grande quindi del big bang e tutto quello che ne è seguito e gli studi astrofisici e cosmologici danno una fortissima indicazione che la la geometria dell'universo la metrica dell'universo sia piatta voglio dire che c'è tanta quantità di energia e massa da controbilanciare e la componente negativa del potenziale gravitazionale dovuta alla frazione fra i vari corpi dovuti ai buchi neri dovuti ai pianeti alle galassie così via tutto questa cosa mediamente fa sì che la curvatura dell'universo su grande scala sia pari a zero e allora per fare questo ci serve molta più materia e energia rispetto a quel 4 5 per cento che corrispondono agli atomi ai fotoni ai neutrini ed è questa la ragione che ci spinge a dire ce ne deve essere molta di più e poi con molta fatica siamo riusciti a separarle in due componenti una legata alla componente del vuoto e una legata resistenza di una materia oscura debolissimamente interagente questo è lo stato della comprensione nostra dell'universo quindi c'è una grandissima frazione che non conosciamo e una piccolissima frazione che conosciamo bene quindi tornando a questo punto con un esempio la materia oscura dell'universo è dominante ma invisibile e noi 23 per cento rispetto al 4 per cento quindi la materia di cui siamo fatti assomiglia in questa immagine a una boccia di vetro piena di molti bonbon molte caramelle la maggior parte sono nere invisibili non interagiscono con le altre e quelle poche che sono visibili sono quelle che noi conosciamo sono quelle di cui siamo fatti e di cui teniamo conto ma sono solo una piccola frazione immersa in un totale con cui c'è una scarsissima interazione un altro problema perché tutta questa introduzione beh perché nello spazio con ams lo vedremo andiamo proprio a cercare eventuali indicazioni dell'esistenza della materia oscura come si fa questo beh guardiamo questo diagramma si chiama un diagramma quello che c'è al centro in cui abbiamo delle frecce che entrano e che escono da quella quella da quel cerchio grigio è un modo tipico per disegnare un'interazione fra particelle di ingresso e particelle in uscita per esempio questo diagramma lo possiamo leggere in vario modo per esempio se noi lo leggiamo da destra verso sinistra abbiamo in ingresso delle particelle o delle antiparticelle e il fatto che la freccia possa entrare uscire semplicemente una questione di come noi stiamo trattando la linea di tempo corrispondente quindi immaginatevi che le due frecce di destra stiano corrispondendo e per la lettura che sto per presentarvi in qualcosa che sta entrando in quel cerchio grigio e sta facendo un'interazione fra particelle ordinarie protoni elettroni anti elettroni antiprotoni gamma e così via questa reazione può produrre una quantità importante di energia accumulata nel vuoto una situazione instabile che decade in che cosa per esempio due particelle chiamate chi in questo esempio che corrispondono alle particelle di materia oscura lo studio di questa reazione si fa agli acceleratori con fasci in ingresso di alta energia che si scontrano e producono si va a cercare di tanto in tanto stati finali in cui le particelle della materia oscura esistono magari mescolate ad altre particelle questo è quello che si fa al cern con lhc oppure possiamo leggere questo diagramma dal basso verso l'alto abbiamo una particella di antimatteria oscura chi che entra in questo sfera in questo cerchio grigio una particella normale per esempio la va a urtare contro i nuclei di un nucleone è molto improbabile ma può succedere riesce mantenendosi una particella come era quella in ingresso quindi siamo la parte di sinistra in alto e anche in uscita abbiamo particelle normali diciamo legate al nucleone o al nucleo che è stato urtato questo si chiama un urto per esempio elastico in cui entra un nutre una particella di massa di debolmente interagente da però un urto ogni tanto a un nucleo o un nucleone in uscita abbiamo entrambi col fatto che sono scambiati energia questa è una la modalità con cui si cercano queste particelle sotto il gran sasso negli esperimenti di materia oscura in cui letteralmente viene creato un volume di di liquido super puro super stabile in cui non accade rigorosamente niente protetto dai raggi cosmici protetto dai disturbi esterni e si cerca di vedere se di tanto in tanto nascono rilasci energetici all'interno che possono essere collegati a un fenomeno come quello di scattering mentre quello di prima di LHC era produzione di stati ma c'è un terzo modo per studiare questo tipo di fenomeno che è il modo chiamato di annichilazione le due particelle chi in ingresso possono essere l'una l'antiparticella dell'altra si annichilano siccome se fossero un protone con un antiprotone si annichilano e a questo punto lo stato di vuoto pieno di energia che si è creato instabile può decadere in particelle normali in particelle abbondantemente presente in raggi cosmici come i protoni ma anche in particelle rare come gli antiprotoni i positroni o addirittura l'antiliotereo questo è uno studio che cerca di capire se ci sono troppe particelle rare rispetto all'attesa e li va a ricondurre a un'ipotesi di formazione per annichilazione o decadimento di di materia oscura quindi questo attorno a questo grafico si muove molto della ricerca delle astro particelle in tutto il mondo che si può fare agli acceleratori sotto terra o nello spazio sapete che fino adesso né lhc né gli esperimenti sotto il gran sasso hanno dato nonostante uno sforzo immenso indicazioni dell'esistenza di questi fenomeni né in produzione né in scattering e quindi diciamo interessante quello che sto poi per raccontarvi rispetto alla possibile linea di annichilazione un secondo problema importantissimo che è rimasto irrisolto in questo modello delle particelle standard e un modello cosmologico standard è che fino a fatto l'antimateria che rappresenta all'inizio all'inizio l'universo è nato simmetrico tante cariche più quante cariche meno tante particelle quante anti quante parti quante antiparticelle è chiaro che all'inizio essendo vicino materia antimateria si è annichilita in modo enorme è scomparsa tutta la materia tranne una parte per miliardo si stima e questa materia sopravvissuta siamo noi e sono le stelle le galassie i gas interstellari fino giù giù fino al nostro corpo e diciamo gli oggetti che sono vicini a noi la domanda è che fino a fatto la corrispondente antimateria perché fino ad ora non abbiamo trovato nessuna indicazione di leggi della fisica che si comportino in modo asimmetrico fra materia e antimateria quindi se vogliamo fare un paragone visivo immaginifico abbiamo perso la scatoletta dell'antimateria mentre stiamo vivendo avendo aperto la scatoletta della materia le due dovrebbero essere grandi uguali ma una l'abbiamo quella dell'antimateria non sappiamo che fine abbia fatto bene del del big bang vi ho accennato e quindi perché ams affronta i due problemi che vi cita la materia oscura e l'antimateria due grandi problemi aperti nello studio della fisica diciamo altro particellare fondamentale di questi di questi anni tu che a me se immaginatevelo se mai avete avuto l'opportunità come un esperimento del cern a lhc di dimensioni molto più piccole gli esperimenti di lhc hanno un grande magnete che contiene un grande calorimetro che contiene dei tracciatori di particelle o degli identificatori per separare le particelle una dall'altra può pesare 10 mila chili sto pensando a atlas cms e come dimensioni rispetto a un essere umano corrisponde una casa di 45 piani quindi qualcosa di assolutamente enorme ma fa quelle funzioni che vi ho detto campo magnetico per piegarla carica e calorimetro per misurare l'energia identificatore di particelle per separare una dall'altra e capire qualche cosa per poter ricostruire la fisica sapendo quali particelle gli ulti dell'acceleratore lhc hanno prodotto bene ams fa la stessa cosa non ha un acceleratore ma i raggi cosmici arrivano a tutte le direzioni quindi occorre selezionarne una di queste direzioni o un intervallo limitato e da lì entrano con regolarità i raggi cosmici alle varie energie dobbiamo far ripassare un campo magnetico dobbiamo misurarne la carica positiva o negativa dobbiamo misurarne l'energia la velocità e la direzione da cui vengono poco altro possiamo fare perché non li possiamo fermare sono particelle di alta energia e quindi passano e vengono fotografati nelle loro proprietà mentre stanno attraversando il rivelatore e questo è il disegno dell'insieme dello strumento chiuso quindi non si capisce bene cosa c'è dentro intanto vi mostro questa immagine che vi dà un'idea delle dimensioni fisiche quindi abbastanza grande e adesso lo esplodiamo per capire cosa c'è dentro allora guardate l'immagine il disegnino sinistra e abbiamo una parte centrale che un magnete cilindrico permanente con un campo dipolare che fa sì da piegare le particelle che ci passano dentro attraverstandolo dall'alto in basso poi abbiamo del chiamato in pof vedete un sistema di trigger che ci dice quando misurare quando fotografare quando prendere il dato della particella che sta passando attraverso il nostro rivelatore praticamente alla velocità della luce in cima abbiamo un rivelatore chiamato trd che sostanzialmente separa le particelle ad altissima costante gamma relativistico molto relativisti come gli elettroni protoni e i positroni da quelle più lente come gamma anche sono i protoni o i nuclei atomici quindi è una particella è un rivelatore che separa le particelle ultra relativistiche da quelle relativistiche sotto abbiamo il rich ring image in cereco detector che misura invece la velocità di quelle particelle che hanno ancora un beta abbastanza basso da non essere ancora saturato ad uno beta è il rapporto tra la velocità della particella e quella della luce e in fondo abbiamo un calorimetro elettromagnetico che misura l'energia delle particelle che hanno sostanzialmente proprietà elettromagnetiche come gli elettroni come i fotoni e funziona molto meno bene per i protoni per gli altri ladroni abbiate avete a destra la l'espansione con tutti i componenti vari rivelatori fotografati non entro nei dettagli perché non abbiamo tempo però alla fine ognuno di questi rivelatori messo assieme e poi chiuso e opportunamente collegato all'elettronica produce e lo strumento che vedete sulla destra il 16 maggio 2011 ams 2 è stato lanciato con uno shuttle penultimo volo di shuttle la ms 1 aveva volato dieci anni e aveva volato qui cos'era nel 98 quindi 13 anni prima con un altro volo di shuttle ma solo per 12 giorni mentre questo volo ha emesso portato sulla stazione spaziale dove è stato installato nella posizione che avete visto prima pochi anni fa nel periodo 19 20 mentre scoppiava a terra il covid luca parmitano che ancora non sapeva che stava per scoppiare il covid ha fatto quattro interventi di extra vehicular activity in cui ha cambiato una parte importante di ams che sono le pompe per il raffreddamento dopo dieci anni avevano smesso di funzionare dando l'esperimento altri dieci anni di vita quindi l'esperimento opera ormai da undici anni e se le cose diciamo se la stazione spaziale continua a operare noi prenderemo dati fino alla fine di questo decennio perché per cercare fenomeni rari è molto molto importante acquisire una grande grande statistica cosa è curioso e acquisendo tantissimi raggi cosmici che passano nel rivelatore e diciamo dove c'è più materia interagiscono dove ce n'è di meno passano senza lasciare traccia uno riesce a fare delle radiografie delle tomografie usando i raggi cosmici questo è il rivelatore ams visto in tomografia le parti più scure sono quelle in cui ci sono meno interazioni le parti più chiare sono quelle in cui ci sono più interazioni uno vede le innervature le strutture i pezzettini anche dell'elettronica il magnete e e i sostegni dei vari delle varie parti perché rappresentano materiale che per le particelle con cui le particelle interagiscono e si riesce addirittura a vedere la scritta sulla cima del rivelatore ams che è uno straterello di alluminio sottilissimo ma proprio misurando con precisione le interazioni si riesce a evidenziare perfino questo con diciamo la tomografia fatta a base di raggi cosmici e noi misuriamo abbiamo detto tutto ciò che è carico e alle energie di cui stiamo parlando sono tutti ionizzati non ci sono atomi con con componenti ancora di elettroni sono tutte particelle nucleari stabili oppure elettroni oppositroni o antiprotoni o anti altre particelle e quindi noi spazzoliamo la tabella degli elementi dall'idrogeno fino al ferro e misurandone le proprietà l'energia e sono facilmente identificabili l'uno dall'altro perché la carica elettrica varia di uno in uno dall'uno all'altro vediamo come sono presenti in quantità frazioni diverse alcune per alcuni stati molto stabili l'idrogeno e l'elio sono abbondantissimi anche il carbonio e l'ossigeno sono due nuclei molto stabili litio e beriglio boro sono più fragili e sono indotti dalla frammentazione spallazione si chiama di particelle più pesanti vediamo anche l'effetto pari dispari nel numero atomico e quindi vediamo che c'è più neon magnesio e silicio meno fluoro sodio e alluminio e così via fino al picco del ferro altro nucleo molto stabile che sta a valore di carica molto più alto noi di questo tipo di studi sui nuclei e le loro energie e le loro proprietà abbiamo una quantità di risultati molto importanti questo va andiamo un po veloce perché il tempo tiranno vediamo quali sono le principali scoperte che ha emesse osservazioni che ha messo ha fatto fin in questi primi dieci anni è una delle cose più importanti è stato lo studio di elettroni anti elettroni di alta energia ricordate all'inizio vi ho mostrato il grafico come era prima e come era dopo ams abbiamo milioni decine di milioni di elettroni milioni di positroni che sono più rari è circa un ventesimo la quantità di positroni rispetto agli elettroni e la cosa interessante è confrontare il loro a loro distribuzione lo vediamo un po questo grafico cosa mostra la scala orizzontale l'energia in giga elettron volt uno dieci cento mille è una scala logaritmica quindi ogni intervallo è una decada in energia quindi si va da un gevo anzi un pochino di meno fino a circa mille gevo che è un terra elettron volt un tev la scala verticale mostra il flusso di queste particelle in funzione dell'energia moltiplicata per l'energia al cubo perché si fa questa presentazione perché in questo modo si riescono a vedere i dettagli delle presentazioni delle distribuzioni che altrimenti scenderebbero così velocemente da obbligare l'utilizzo della scala logaritmica anche in verticale perdendo tutta la percezione dei dettagli di che queste distribuzioni in realtà ci stanno raccontando perché le misuriamo con enorme precisione quindi i positroni poi in giallo sono moltiplicati per un fattore 10 per poterli confrontare con gli elettroni di cui sono fratelli è l'antiparticella dell'elettrone e cosa vediamo una cosa molto curiosa gli elettroni a bassa energia ce ne sono pochi raggiungono un massimo in questo grafico a circa 8 geve poi scendono e ci aspettiamo che scendano 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 perché ad altre energie senza che ce ne siano sempre di meno e a bassa energia ce ne sono pochi semplicemente perché ha emesso in orbita intorno alla terra e il campo magnetico terrestre in cui è emesso e immerso fa da cut off rispetto alle particelle di bassa energia che non raggiungono la terra vengono deflesse e tenute lontane dal campo magnetico quindi quando si superano in 8 9 geve questo effetto scompare lì si ha accesso direttamente al flusso di elettroni che sono interplanetari interstellari e questi scendono 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 con con poche caratteristiche significative i positroni sapevamo che ci devono essere meno meno di elettroni infatti sapevamo che iniziavano a crescere più o meno filtrati dal campo magnetico e vediamo che la parte da 1 a 2 3 geve assomiglia molto col fattore di scala gli elettroni però poi cambia tutto diventano piatti da questa distribuzione intorno a sotto i 10 geve fino a qualche decina di geve poi aumenta raggiunge un massimo a circa 300 350 geve e poi incomincia a calare un comportamento totalmente diverso dai loro fratelli elettroni e che non era previsto da nessuna teoria e ancora oggi è in discussione per capire qual è la sorgente di questo fenomeno questa evidenziazione di questo fenomeno con tanta precisione è possibile perché abbiamo moltissimi dati quando c'era quella di quelle distribuzioni poco chiare che vi ho fatto vedere all'inizio e ovviamente non era possibile evidenziare questo tipo di andamento che cos'è la causa di questo eccesso di positroni rispetto alle attese ecco questo grafico mostra l'andamento atteso di positroni che ci aspettiamo nei raggi cosmici dovrebbero raggiungere un massimo 7 8 geve e poi similmente agli elettroni scendere 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 a energie sempre più alte invece accade una cosa completamente diversa ed è visibilissima diciamo dai dati di ams per poterla discutere in modo più generale senza legarci a nessun modello teorico noi possiamo dire che c'è una sorgente di positroni attesa dalle di ulti dei raggi cosmici con la materia intestellare con le particelle gli atomi i nuclei intestellari interplanetari e poi un eccesso di positroni che viene da qualche altra sorgente che può essere o astrofisica per esempio potrebbe essere una pulsa ne parleremo brevemente dopo oppure da fenomeni fisica nuova come l'annichilazione della materia oscura perché essendo i positroni rari qui vediamo un eccesso rispetto alle attese enorme e quindi il fenomeno è presente e potrebbe essere interpretabile come dovuto all'annichilazione della materia oscura con chiaramente masse molto alte perché sarebbero i positroni questi che decadono da un'annichilazione di oggetti che possono produrre positroni fino a circa 1000 GeV quindi parliamo di masse iniziali probabilmente di qualche migliaio di GeV che sono in grado di produrre frammenti nella loro interazione e nella loro annichilazione che possono raggiungere anche 1000 GeV quindi una sorgente tradizionale nota ma su cui si aggiunge una sorgente di fisica non attesa ma misurata con molta precisione. Tenete conto che LHC ha fatto le sue studi di produzione di materia oscura raggiungendo in tutta una serie di modelli, ce ne sono tantissimi, masse dell'ordine di un tera elettron volt per su C quadro e quindi non riesce ad arrivare a 3, 4, 5, 10 tera elettron volt su C quadro di massa perché l'energia a disposizione ancora non è sufficiente, adesso su questo nuovo run che sta facendo probabilmente farà un passo avanti in questa ricerca. Quindi l'esistenza di possibili candidati di materia oscura con masse dell'ordine o maggiore di un tera elettron volt non è esclusa da nessun'altra osservazione e quindi cercare nello spazio e interpretare questo fenomeno come dovuto alla materia oscura non è un'idea peregrina perché non ci sono, diciamo, misure che lo possano controbattere, che lo possano negare. Trasformando questo tipo di osservazione, di sensibilità in limiti rispetto alla nostra comprensione dell'astrofisica, della cosmologia, questi limiti ci dicono che non ce ne può essere troppa di materia oscura, ce ne deve essere quanta ne serve per rendere l'universo con una metrica piatta. Quindi c'è un limite che dice non ce ne deve essere più di tot e meno di tot, altrimenti non tornano i calcoli come è fatto l'universo. Bene, in questo tipo di analisi vedete a sinistra e a destra quella riga verde o quella banda grigia, quella è la zona permessa col modello astrofisico e cosmologico attuale. Quindi noi dovremo avere eventualmente particelle di materia oscura che possono cascare su quella linea tratteggiata verde o che possono cascare in questo spazio delle fasi in quella linea di banda grigia. Vedete che a sinistra a valori bassi, del valore della massa delle particelle, abbiamo limiti che vengono da varie osservazioni di cluster di stelle a neutroni, di limiti che vengono dal cosmic microwave background, la ricombinazione che è avvenuta nelle prime fasi dell'universo e che quindi impedirebbero l'esistenza di particelle al di sotto di circa 200 GeV perché sono stati già esclusi. Allo stesso modo, questo è un altro tipo di analisi, ma allo stesso risultato, vedete che anche confrontandosi con altre misure indirette di vari esperimenti, la banda grigia non è stata verificata, non è stata spazzolata nello studio al di sopra di un paio di centinaia di GeV. Quindi attualmente i limiti che possiamo sfruttare per interpretare quel picco di positrone di AMS sono perfettamente compatibili con un possibile candidato che abbia una massa di 1000, 2000, 3000 GeV. Bene, questo è un modello fra i tanti che interpreta appunto questa componente viola della sorgente addizionale in termini di un modello di massa oscura a due componenti, non entro nei dettagli, ma per dirvi che si può riprodurre una curva del genere utilizzando modelli multiparametrici e quindi non è la dimostrazione che è la ragione di questo spicco, ce ne possono essere altre, ma si può affermare che esistono modelli che possono interpretare questo picco in termini di materia oscura compatibili con tutto il resto della nostra compressione delle particelle elementari e delle altre particelle. Giusto per curiosità vi ripropongo i positroni e gli elettroni senza la moltiplicazione per 10 dei positroni, quindi quel grafico che avete visto prima qui non c'è il fattore per 10 e vedete anche in questo caso i termini che c'erano precedenti, quindi il contributo dei positroni a bassa energia e la sorgente ad alta energia e si è provato a fare quindi lo stesso per gli elettroni, quindi una componente di bassa energia e una componente di sorgente, qual è il punto? Che gli elettroni sono molti di più e quindi la sensibilità a una componente di fisica nuova è meno marcata perché vedete che esiste, è presente, ma è più piccola del contributo dovuto al contributo decrescente tradizionale perché gli elettroni sono tanti e questo eccesso di elettroni dovuto a questo fenomeno sarebbe comunque proporzionalmente molto più piccolo, mentre sui positroni che sono pochi è molto più visibile. Interessante osservare che non solo i positroni sono in eccesso ma ci sono anche molti antiprotoni, anche l'antiprotone è una particella molto rara che potrebbe essere prodotta nella anichilazione dei particelli di materia oscura e qui osserviamo come ci sono molti antiprotoni che il rapporto fra antiprotoni e protoni rimane costante, ha energie molto alte e questo fa pensare assieme al fatto che elettroni, scusatemi, positroni e antiprotoni, guardate questo grafico, al di sopra di circa 10-20 GeV hanno andamenti abbastanza simili, fanno insospettire sul fatto che sono due antiparticelle rare che possono venire da un'annichilazione di materia oscura e che hanno un comportamento che si assomiglia molto nel loro andamento ad alta energia. Sui positroni vediamo una netta decrescita sopra i 300 GeV, sugli antiprotoni non abbiamo abbastanza statistica per poter vedere la decrescita ma vediamo che la crescita è simile, quindi abbiamo questa cosa interessante che elettroni e antiprotoni, due particelle una più rara dell'altra, hanno un comportamento ad alta energia diverso da quello atteso che potrebbe di nuovo sostenere un'ipotesi di annichilazione di una particella di materia oscura di una massa piuttosto grande. Questo è interessante anche perché nell'ipotesi che i positroni che noi osserviamo in eccesso vengono da una pulsar, una pulsar, una stella di neutroni circondata da plasma in cui vengono prodotti accelerati positroni ed elettroni in quantità importanti, quindi potrebbe essere una sorgente di positroni di alta energia significativa, però queste pulsar non avrebbero la capacità di produrre antiprotoni. Quindi questa analisi mostra come il fatto che qualitativamente antiprotoni e antielettroni mostrano un andamento per adesso con gli errori che abbiamo a disposizione simile ad alta energia, va nella direzione di sostenere un'ipotesi di spiegazione di questo picco. In futuro si pianificano esperimenti che dovrebbero avere molta più statistica ad alta energia e a questo punto cosa sarà possibile quando si potrà misurare con molta più accuratezza l'andamento di questo picco? Vedete che a seconda se la causa è la materia oscura, questo andamento, questo picco scenderà molto velocemente perché è finita l'energia dello spazio delle fasi, non si possono produrre particelle più energetiche di un totto e questo totto è definito dalla massa delle particelle di materia oscura. Invece se le sorgenti sono delle pulsar, la discesa di queste distribuzioni è molto più morbida, molto meno caratteristica, molto meno verticale e un domani usando questo tipo di andamento si pensa di poter avere forse lo smoking gun, cioè la dimostrazione se questo andamento è di un tipo o di un altro. Si è legato a una nuova scoperta di una particella di materia oscura, che sarebbe chiaramente una cosa di estrema importanza, o un nuovo effetto astrofisico ma legato alle pulsar e quindi più tradizionale nella sua interpretazione. Questo è quello che si pensa di ottenere usando i dati di AMS da adesso al 28, quindi come vedete ci aspettiamo di poter misurare un punto intorno o sopra il 1000 GeV con una sufficiente precisione da capire quanto è verticale, quanto è rapida questa decrescita della spalla ad alta energia della distribuzione dei positroni in eccesso. Parliamo adesso dell'antimateria pesante, non più positroni o antiprotoni. Andiamo a parlare proprio degli antinuclei di Elio o degli antinuclei di Elio 3 e di Elio 4. Abbiamo detto che non c'è evidenza che l'antimateria e la materia abbiano dissimmetrie, ma noi viviamo un universo che a breve scala è fatto tutto di materia. Si è molto cercata una rottura di simmetria che produca una scomparsa dell'antimateria nelle fasi iniziali dell'universo. Fino adesso non si è trovato niente, per cui vale la pena cercarlo anche nello spazio con AMS. A livello di parti per miliardo, quindi rarissime, si sono osservati candidati di antideuterio, e questa è una particella quindi di carica meno uno, ma di massa due nucleoni, e l'energia e la sua quantità di moto sono piuttosto basse, che può comportarsi come un deuterio ma la carica rovescia e quindi è un antideuterio. Ce ne aspettiamo qualcuno dovuto all'urto fra raggi cosmici e la materia interstellare e interplanetaria, perché questo tipo di situazione può presentarsi una volta ogni qualche milione o decine di milioni di interazioni. Quindi ce ne aspettiamo qualcuno, sono difficili da estrarli dal flusso di particelle, ma questo è un candidato che stiamo studiando. Beh, diventa già più interessante quando invece andiamo a vedere l'anti-elio 3, quindi una particella di carica 2, ma con un meno, meno 2, e una massa pari a 3 nucleoni, perché l'anti-elio 3 è due protoni e un neutrone. E osserviamo alcuni candidati come questo, che sono eventi molto puliti, che piegano nella direzione di meno carica, quindi meno 2 in questo caso, e hanno una massa corrispondente proprio a quella dell'elio 3, è un isotopo stabile dell'elio. Tenete conto che ci aspettiamo il rapporto di anti-elio 3 sull'elio, nei raggi cosmici, a livello di meno di parti in 10 alla meno 9, specialmente se abbiamo energie che non superano i 10 GeV. AMS, che ha contato un certo numero di anti-eli 3, beh, sta vedendo una quantità di anti-eli 3, che è al di sotto del limite che sopra i 20 GeV era di 10 alla meno 7, o qualche 10 alla meno 7. E quindi è molto al di sopra, quindi è compatibile con questo limite, diciamo, ad alta energia, molto al di sopra del limite che è stato osservato fino a 10 GeV, di 10 alla meno 9. Quindi attualmente ancora compatibili con i limiti precedentemente visti, ma in questo caso darebbe evidenza della presenza di anti-eli 3. E ancora più interessante gli anti-eli 4. Qui vediamo una particella che ha carica negativa a meno 2, una massa di pari a 4 nucleoni 3.8 GeV, che si confronta bene con la massa dell'elio 4 che è 3.73 entro gli errori, a bassa quantità di moto e anche qui un evento molto pulito in cui una particella entra, piega come fosse negativa, a una carica Z pari a 2 e quindi a tutti gli effetti è un candidato di anti-eli 4. Qui è una situazione più difficile di quella precedente, perché l'attesa di un fondo di anti-eli 4 sarebbe a un fattore un milione sotto quello che osserviamo. E quindi qua c'è un problema di confronto con i modelli teorici molto drastico, molto serio, che può essere interpretato come che i modelli teorici non sono adeguati, come che c'è una sorgente di anti-elio 4 vera e che quindi c'è una produzione all'interno di antistelle, di anti-nucle di elio 4, oppure, e su questo stiamo lavorando molto intensamente, i pochissimi eventi, stiamo parlando di pochissimi eventi, vediamo se c'è un grafico complessivo, forse no, non c'è, abbiamo in tutto, scusatemi, sono uscito qua, adesso torno in dentro, abbiamo in tutto 8 eventi, di cui 6 sono di anti-elio 3 e sono 2 di anti-elio 4, questi eventi stiamo studiando per capire se per caso ci sia un contributo di qualche fondo dovuto all'esperimento. Sono particelle, eventi, una parte in 10 miliardi e dovrebbero essere studiati con estrema cura per evitare che ci possano essere effetti rarissimi ma che ci ingannano nell'osservazione di questi eventi iper rari. Adesso io mi fermerai qui per dare qualche tempo alle domande, perché le cose che poi vi dico alla fine, eventualmente ci torno sopra, e vado ai conclusioni. Noi abbiamo misurato fino adesso una struttura molto evidente di positroni, di anteparticelli dell'elettrone, intorno a 500 Geve. Può essere interpretata come dovuta alla materia oscura, però può anche essere interpretata come dovuta a un fenomeno legato alle pulsa e serve più statistiche per definire quale dei due. Abbiamo dei dati interessanti sull'antimateria, con l'anti-elio 3 e l'anti-elio 4, che stiamo studiando con estrema precisione per essere sicuri che sono eventi perfettamente non compatibili con un fondo. Misuriamo con grande precisione gli spettri dei nuclei fino al ferro, non ho parlato in dettaglio ma sono molto importanti per capire i processi nucleari legati anche alle esplosioni delle supernove, agli urti di stelle a neutroni con buchi neri, cose come queste. E poi possiamo anche migliorare l'andamento delle particelle cariche nel tempo con grande precisione per studiare fenomeni chiamati di space weather, di tempo meteorologico spaziale, che sono molto importanti per capire i possibili danni che possono essere fatti a dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Nel prossimo anno si misurerà con maggiore precisione la discesa dello spettro dei depositroni, studiare con più precisione ancora, con più statistica, gli antiprotoni, specie ad altre energie, e cercare di accumulare altri eventi di antimateria rispetto a quelli già raccolti e fare tutta una serie di controlli e di verifica per essere sicuri che si tratti di segnali e non di fenomeni rarissimi ma legati a qualche forma di fondo non capito. E con questo io mi fermerei. Qui sono in una lista di pubblicazioni di AMS negli ultimi anni, sono state quasi tutte suggerite come editor suggestion, che ha una dimostrazione della qualità del prodotto scientifico di questo esperimento, e questo è quanto. Grazie a tutti. Grazie davvero Roberto per questa conferenza così completa e così aggiornata e anche appassionante. Sicuramente ci saranno delle domande, lascio spazio alle domande. Posso, professore? Luca Reduzzi, coraggio. Sì, buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno professor Battiston, sono Luca Reduzzi del Museo della Scienza di Milano. Innanzitutto grazie per questa carrellata veramente entusiasmante, devo dire veramente chiarissima e veramente che fa capire quanto è avanti la ricerca di frontiera. Due domande, ma probabilmente perché non ho capito io. Una all'inizio, l'esistenza quindi della materia oscura e dell'energia oscura sostanzialmente prende l'abbrivio dall'affermazione che l'universo deve essere piatto. E allora la mia domanda è, forse è stato detto, allora mi scuso se non l'ho capito, quali sono le osservazioni quindi che ci permettono di dire l'universo è piatto e quindi dobbiamo immaginare l'esistenza di una energia oscura piuttosto che di una materia oscura. La seconda cosa, in quel grafico che lei ci ha fatto vedere in cui entravano e uscivano particelle, proprio quasi all'inizio, si vede che appunto la materia oscura potrebbe derivare, se non ho capito male, anche da modifiche delle particelle più o meno ordinarie. Ma quindi potrebbe essere che la materia oscura sia una fase transiente, diciamo così, della materia ordinaria oppure proprio non c'entra niente? Non so se ho reso l'idea. È chiarissimo, sono due domande, una più chiara dell'altra. La prima, ne parlo io, ma avete in questa riunione un esperto mondiale di quello che sto per dire, che è l'amico Paolo, ma sostanzialmente sono un paio di misure che permettono di affermare che l'universo è piatto. Una in particolare sono lo studio della struttura del Fondo di Radiazione Cosmico, il CMB. Queste analisi, queste misure di altissima precisione che riguardano la luce emessa circa 300-350 mila anni dopo il Big Bang, quando si ricombinano i nuclei, i protoni, dei nuclei dei futuri atomi di idrogeno con gli elettroni che stavano nel plasma primordiale e diventano atomi di idrogeno e anche un pochino di elio e la radiazione poi diventa libera di passarci attraverso perché non interagisce più col plasma, quindi l'universo diventa trasparente la radiazione. Bene, quella radiazione, 14 passa miliardi di anni dopo, ci raggiunge, mette in evidenza che in alcune parti del cosmo c'era temperatura più alta, in altre parti del cosmo temperatura più bassa, è un'analisi sofisticatissima di questo tipo di informazione che viene fatta appunto dagli esperimenti come Boomerang, che ha fatto Paolo De Bernardis, e poi Planck, e poi WMAP e via dicendo, con un'analisi sostenuta da modelli molto molto importanti, si tira fuori l'informazione che se l'universo non fosse con metrica piatta, le distribuzioni di questa radiazione non sarebbero queste. E se queste misure sono molto molto precise, assieme ad altre misure che adesso non sto qui a ricordare, danno un'indicazione molto stretta che l'universo è piatto. Stiamo parlando di una corrispondente, se piatto vuol dire uguale a 1, 1 con errore del 2%, stiamo parlando di accuratezze estremamente spinte, ed è incredibile come osservando queste quantità fisiche si arrivano a queste conclusioni. Si imparano anche moltissime altre cose, tre famiglie di neutrini e tante altre cose, e sulla base di queste osservazioni abbiamo un universo piatto. Certo, queste misure possono anche essere interpretate in presenza di materia oscura, corrispondentemente a quella che ci deve stare, o di energia oscura. Ecco, lì si entra in un gioco delle parti, i tre ingredienti con queste misure di CMB, più altre misure, sono stati postati a 73%, 23% e 4%, e viene da galla, uno può discutere se abbiamo un po' di più materia oscura, un po' di meno energia oscura, ma riba nel fatto che sta benedetta materia di cui siamo fatti tutti noi, è la polvere del residuo sotto il tappeto. È bellissima, la capiamo, ma è veramente una frazione piccolissima, uno dei tanti modi per ricordarci che siamo piccolini, che siamo traspurabili nel bilancio compressivo dell'universo. Quindi questa è la risposta, è sperimentale, la risposta è sperimentale, è straordinaria, bellissima ed è sperimentale. La seconda, il punto è questo, ci sono vari modelli di cosa sia fatta la materia oscura, ma tipicamente dicono che i numeri quantici che caratterizzano la materia oscura non sono, c'è almeno uno che non è presente nella materia normale. e quindi noi possiamo far annichilire materia normale, creare un numero quantico del vuoto pari a zero, perché prendiamo per esempio E più e meno che annichiliscono, fanno l'energia, l'energia, i numeri quantici pari a quelli del vuoto, questo vuoto pieno di energia può ridecadere in che cosa? In due particelle di materia oscura che hanno i numeri quantici tipici della materia oscura più 1 e meno 1, quindi partendo da un'annichilazione tra particelle normali, ma che hanno numeri quantici messi assieme e corrispondono al vuoto, ma ci mettono un pacchetto di energia, questo pacchetto di energia può poi ridecadere in due particelle che hanno numeri di materia oscura più 1 e meno 1 e che quindi sono compatibili con il vuoto, ma che non sono compatibili con le particelle da cui provengono. Il vuoto lo fa in tantissimi casi e noi produciamo stati finali da stati iniziali totalmente diversi che però cambiano natura in questa reazione che avviene nel vertice o nell'interazione caratteristica, pensiamo ai fotoni, pensiamo agli Z0, anche i W più o meno che prendono pere e mele e ne fanno ciliegie e banane, questo è proprio il nucleo profondo della reazione elementare predetto e verificato nelle interazioni relativistiche quantistiche. È un'altra cosa meravigliosa che è alla base di tutto ciò che facciamo agli acceleratori, per cui non è la particella che c'è un pezzo di materia oscura che emerge, scompare il mondo a livello delle particelle e ricompare e ci fa entrare in un mondo fatto da particelle di materia oscura, questa è l'idea di base dietro a quel blob. In alcuni casi scattering, abbiamo visto che c'è la particella di materia oscura che rimbalza, tocca la materia normale e se ne va mantenendo le sue caratteristiche di materia oscura, la materia normale, altro che fa che non prendere un po' di energia e rilasciarla per ionizzazione e quindi renderla evidente. In altri casi LHC dobbiamo produrla, quindi il blob di energia deve coinvolgere un protone, un antiprotone, un elettrone, un positrone e produrre poi di tanto in tanto due particelle di materia oscura che poi sembra che siano spesso l'una l'antiparticella dell'altra come col fotone, nel caso nostro invece noi andiamo a vedere gli effetti di un'annichilazione, di un decadimento che non possiamo controllare, è accaduto magari molto lontano da noi ma che ha iniettato nel mondo delle particelle normali un po' di più di positroni, un po' di più di antiprotoni, in alcuni modelli anche un po' di più di antielio 2, di antielio 3, di antielio 4 e noi riusciamo a vedere, questa idea chiaramente, questo eccesso perché essendo così pochi queste particelle di partenza, un eccesso dovuto a questo fenomeno può essere interpretabile con la presenza del fenomeno stesso. grazie, gentilissimo. Grazie Roberto. Ci sono altre domande per il professor Battiston? Roberto, tu hai accennato a due modi per andare oltre il terra elettronvolt e quindi poter scegliere tra diversi modelli e poter dire sì è materia oscura, no sono pulsar. Uno è continuando a accumulare dati con AMS e l'altro è con un esperimento nuovo. Ci puoi spiegare meglio se continuando con AMS ci si aspetta di dare la risposta oppure già siamo obbligati a prevedere un esperimento nuovo probabilmente anche per altri scopi. Certo, allora bellissima domanda. Allora il punto è questo, non l'ho detto ma si intuisce ma adesso lo chiarisco. La bellezza del cosmo è che ci manda i raggi cosmici di alta energia gratis, una volta che usciamo dall'atmosfera e siamo in grado di operare nello spazio, ma non è che ce ne mandi a tutte le energie quanti ne vogliamo, non possiamo influenzare in nessun modo i processi che ci fanno arrivare e succede che mano a mano che aumenta l'energia e il numero di queste particelle di energia più alta decresce con un esponenziale violento, tipicamente decresce di mille volte per ogni decade di energia. Quindi da 1 a 10 GeV ne ho da 10 a 100 GeV ne ho mille volte di meno, da 10 a 1000 ne ho mille volte di meno e rapidamente vado a milionesimi, miliardesimi di quelli di partenza. Perché a un certo punto mi devo fermare, nel senso che non posso più avere un rivelatore grande con un campo da calcio che mi prende abbastanza particelle da trovare quelle pochissime di altissima energia. Non siamo ancora giunti lì, siamo arrivati a disegnare degli esperimenti derivati da AMS ma ottimizzati per geometria, come sempre in queste cose la prima generazione si fanno delle cose, la seconda partendo da quello che si è imparato si fanno oggetti sempre migliori. Potremmo arrivare a una chiamata accettanza anche 20 volte 40 volte quella di AMS, quindi si può andare a studiare sopra il TEV, magari anche fino a qualche decina di TEV, i positroni, si può andare a cercare più candidati di antielio perché anche io dipendo dall'accettanza, anche lì si può migliorare molto l'accettanza e si può anche migliorare il campo magnetico per misurare la carica di particelle ben più energetiche, invece di arrivare a un limite a cui siamo adesso intorno a 1, 2 TEV, si può arrivare a 10, 15, 15 TEV, quindi c'è questo intervallo di una decade per cui AMS non è ottimizzato e per cui altre versioni di esperimenti, lo chiamiamo Aladino questo modello di esperimento su cui stiamo studiando, sarebbero invece ottimizzati e avrebbero una complicità, un peso, una potenza addirittura più piccola di AMS perché nel frattempo sono passati 20 anni e abbiamo elettronica, materiali, tecnologie molto più sofisticate e possiamo fare strumenti più potenti con meno risorse, rimangono sempre esperimenti complessi, stiamo parlando di esperimenti per cose ultra rare, non c'è niente di facile sulle cose ultra rare, ma c'è margine di manovra per migliorare in modo significativo da giustificare un nuovo sforzo in quella direzione. Tenete conto che per fare AMS in Italia 50 persone e nel mondo 600 persone hanno lavorato per più di 15 anni, quindi non è una cosa che si improvvisa. L'Italia però ha una tradizione molto forte e quindi stiamo studiando a livello di Monte Carlo di simulazione che cosa dobbiamo fare per ipotizzare un esperimento che sia appunto 20 volte, 30 volte migliori di AMS e quindi risponde in modo chiaro a quello che tu hai appena chiesto perché è ovvio che quando si va a lavorare su esperimenti per fenomeni ultra rari che hanno già raccolto 7-8 anti-eli e hanno già visto l'andamento della discesa di positroni con una certa precisione, sappiamo che raddoppiando la statistica non puoi essere 10 volte più accurato. Cioè quando arrivi a questi limiti, se puoi, fare un nuovo esperimento ottimizzato per fare, mettere a fuoco quel dettaglio. D'altra parte ha emesso operativo, la stazione spaziale esiste e continueremo a prendere dati e sperando che nel frattempo nasca l'iniziativa sperimentale per poter fare un esperimento più potente. ottimo, grazie. Prego. Non so se ci sono altre domande, sostanzialmente abbiamo finito il tempo, quindi io ringrazio ancora di cuore Roberto Battiston e vi aspetto per la prossima conferenza che sarà molto presto. Aiutatemi dalla regia, per favore. Il 12 dicembre, professor Vitale. Ecco, non è molto presto, il 12 dicembre è il 13 dicembre. Grazie e buone cose a tutti. Auguri a tutti per il Natale che arriva. A presto, vi vedete. Grazie.